Luke 43 16 Vabbè c'è una cesta Ah c'è anche Harry Potter Vabbè che cacchio Amico Ti sei dimenticato che io non posso saltare Cosa ho raccolto? Ah forse un cuore Dai che devo fare In sto labirinto Un pipistrelle Una cesta Cazzo Abbiamo sbloccato le pressur play Io l'ho detto che è Minecraft ragazzi L'ho detto che sta diventando Minecraft Se faccio qua cosa si è aperto E se apro anche questa Già che ci sono Mi ha aperto qua E l'altra sicuramente me l'ha disattivata No è rimasta cliccata Bene mi ha aperto questa qui ragazzi Orca logia orca vacca voi Che roba Red wizard Aia Che cazzo Oh oh E come lo ammazza questo io? Oh Oh santa lucia Oh matone L'ho beccato L'ho ucciso Oh mamma che spavento Qui ci serve la chiave Logicamente c'è un Buc della serratura Eh trap room E ecco M'hanno chiuso dentro E mo? E mo? Amico Vi siete chiusi fuori? Ah ok Fa tutto lui ragazzi Eh Izzy deve fa tutto lui Sì? La chiave La chiave Abbiamo trovato la key La key La q La chiave Che sicuramente andrà qui Yeah È molto difficile Da capire Eh ciao amico Lo scheletron Che brutto scheletron L'ho detto che prima o poi Sbloccheremo i creeper ragazzi Porca logia Vieni qua Oh oh Ti devo beccare da schiena? Di schiena? Sì è come gli altri ragazzi Devo beccarlo da dietro Oh Bene bene ragazzi I mob Si fanno sempre più interessanti Avete visto che adesso abbiamo sbloccato Quella cosa Che possiamo rompere Quelle cose lì Infatti tornerai proprio indietro io Qua non si può fare nulla Credo Ok I can't see something Underwater here Ok qualcosa Che riguarda La water Water L'acqua There must The other machines In the air E rientra drento di me Bene Non c'ho capito un cazzo Eh Amica Spieghiti meglio Ok Altra pressur prey Oh Santa margherita Summertime Happiness Winter Again Dai Vieni qua Odio Questo mob Ragazzi Meno male che Due colpi Aia Due colpi E muore Ok Mi è rimasto un cuore Ah guardate Cosa le faccio Le ho fatte Proprio che scosti Maze Che vuol Tip Hardway Sui life Oh cazzo Oh cazzo Oh santa Cleopatra Oh santa Maria Terese Di Calcutta Una cesta Non scureggiare Per favore Una chiave Una chiave Sì Dove cacchi Me la metto Questa chiave Io Eh PP Strayer Un cuore Yeah Ora i mob Droppano anche le cose Wow Una stars Ok Grazie amico Come è diventato Bellway Ora i mob Come avete visto Droppano i cuoricini Non so se è random O tutti i mob Sinceramente ancora Non ho capito No tutti i mob Forse Guardate Tutti i mob Oh Finalmente qualcosa Di un pochino Più interessante No questo Non ho droppato un cazzo Tirchio Spilorcio Buongiorno Permesso Ciao E madonna Oh mamma Eh questi attaccano Però Oh In due Non va bene In due No In due No ragazzi In due No Ok Fuori dai Cocomero Andiamo avanti Qua che troviamo Un cuoricino E una chest Abbiamo sbloccato Il pushable block Che non so Che cazzo è Ah guardate Ma che cagata Si sposta Tantan Che si apre la porta Bene 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 Tutto è bene Ciò che finisce bene Che qua Qua non è finito Un cazzo Però Eh Amico Altri push Cosi lì Qua non mi droppano più Cuori Si spilorci Un cuoricino Affanculo Ne abbiamo due Questo non fa nulla O forse servono Proprio tutti e due Ok Che abbiamo sbloccato Questa porta Logicamente Ma le porte indietro Scusate Bah Chi lo capisce Le bravo Ma questo mouse Mi da veramente fastidio Eh Amico Qua che c'è Un cuoricino Di qua Perché si è fermato No Che è successo Perché ci sono No Oh mamma Inizia ad essere più difficile Ragazzi eh Iniziamo proprio a Diventare più difficilini Aia Un per uno Non fa male a nessuno Tu via Tu via Aia E ok Oh mamma L'ho vista grigia Ehm High def Use interface Bye bye Lovely square pixel Welcome anti-analyzing Non hai capito No cazzo Bene Ehm There was Most In the prime room High open In the end of the heart And Son In the end of the Fishing I'm In the end of the world Bene ragazzi Spero che Eh Grazie amica Spero che Con il mio inglese Stiate capendo il gioco Guarda io lo sto Cercando di insegnarvi L'inglese Oh mamma Era meglio che non Aprivo quella cestica Alla hole Oh Che è sto coso qua Che scorregge pure Oh Aia Ah Devo farlo cadere giù Ma scommettete Devo farlo cadere giù Quanto ci scommettete No Ma Si può cadere Oh Si può cadere Veramente Devo buttarlo giù Dai abbiamo capito Dai Guardate Pum Madonna mia Com'è difficile Questo gioco Oh e no A parte scherzi ragazzi Secondo me è una specie Di tutorial Non lo so ancora Non so esprimermi In questo gioco Oh Sant'Cleopatra Porca trota Via La cotolette Di tu sorella Oh e Madonna Porca La pasta asciutta E Oh e Non andava a zigzaggo Eh Via 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 Una cestica La Will 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 Questa mi spinge giù Ah Figlio di tua madre We Ora iniziamo proprio una vera e propria custom map strana Con addirittura i tranelli e cose del genere Ok Ok tre soffi si passa One Two Three Ok Two Three Proprio un balletto strano Oh santa maria Questo l'è gross E live Puzzle Addirittura il puzzle Che cacchio Amico Amico Che faccio Ma sono un mago Ma sono un mago Ma sono un mago Due Cuoricino Un pipistrelle Due pipistrelle Tre pipistrelle Quattro pipistrelle Altro cuoricino Una porta con la chiave Per cui Oh santa maria Oh santa Madonna C'è pure il vento No 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 Oh madonna Madonna No Che spingi La chiave Eh Te pareva Era ovvio Che trovavo la chiave Era ovvio Ecco Era pure ovvio Che mi spingevi sotto Aia Poi ci vado pure da solo Sono pirla Ragazzi Abbiamo questa chiave Dovrei aprire questa porta Ma io Non la aprirò Volete scoprire cosa c'è dietro questa porta Dove andremo a finire O cosa faremo Bene Seguitemi nel prossimo episodio Pollici in su come al solito Un bacione Un abbraccio Da Luke E Peter Pam Che è morto Facendo pam pam E tutto Ciao a tutti